Allora, tutto ebbe inizio nel 2014. L'amministrazione comunale di Siena, proprio alla luce di quelle che erano state le campagne ispettive a cui facevo cenno prima, decise un attimo di consultarmi per capire se secondo me il loro modo di operare in piazza durante appunto i loro allestimenti andasse bene. Quindi sono stato sostanzialmente invitato a dare un'occhiata a tutto, ovviamente a fronte di un primo protocollo firmato tra l'ispettorato e l'amministrazione comunale e diciamo in quel contesto mi sono reso conto che se l'amministrazione poteva avere diciamo qualche piccola cosina da correggere nella loro gestione degli allestimenti e disallestimenti, il problema era più che altro concentrato su quelli che sono gli allestitori privati, cioè i cosiddetti palcaioli, perché appunto dietro un po', non voglio usare un termine sbagliato quindi userò il termine dietro, la convinzione di trovarsi a dover fare una rievocazione anche nel contesto dei montaggi, questi montaggi erano effettuati completamente fuori dalle regole. A quel punto decidemmo di comune accordo con l'amministrazione comunale di allargare il nostro protocollo anche ai palcaioli privati e di coinvolgerli in questo percorso che poi è stato un percorso anche formativo nei loro confronti accompagnandoli a capire la necessità di dover montare nel pieno rispetto delle regole e il primo passo, lo dicevo poco fa, fu quello di fargli capire che nella piazza non c'era un montaggio dell'amministrazione, un montaggio del singolo palcaiolo. La piazza durante gli allestimenti diventa un cantiere unico, tant'è che poi si decise anche di nominare un coordinatore per la sicurezza per tutte le attività di montaggio e smontaggio. Un percorso, il protocollo è partito nel 2014, è stato tenuto in piedi fino al 2019, quindi abbiamo fatto cinque anni di lavoro per poter arrivare poi a quella che oggi posso definire che è la quasi perfezione nell'allestimento di questi palchi. è stato un percorso informativo all'inizio, cercando, come dire, ai privati ma anche alla stessa amministrazione per carità di far capire la necessità e l'importanza che certe cose venissero effettuate in maniera coerente con le norme prevenzionistiche. È stato un percorso caratterizzato anche da parecchi incontri, parecchie riunioni con tutti gli allestitori privati ed è stato un percorso che poi è sfociato addirittura in un specifico corso di formazione, cioè quelli, i palcaioli privati che non hanno deciso di avvalersi di imprese esterne ma che volevano continuare ad allestire i propri palchi, diciamo, in autonomia, si sono resi ben disponibili a fare una formazione specifica e così insieme alla Scuola Edile di Siena abbiamo organizzato un corso di formazione che è un corso di formazione per ponteggisti, quindi per quelli che allestiscono i ponteggi che oggi vediamo un po' dappertutto ma calato nella realtà storica, tant'è vero che poi la prova finale di questo corso fu proprio il montaggio di una serie dei palchi che poi sono quelli che vengono montati in piazza. L'asticella alta, io mi sono reso conto che una volta che viene raggiunto un certo obiettivo, l'asticella si mantiene alta. Oggi sono i palcaioli, dopo purtroppo questi due anni di sospensione del palio, che ci chiedono, che mi chiedono se è possibile, come dire, continuare con il discorso del protocollo perché in qualche modo vogliono costantemente migliorare e si sentono anche, come dire, confortati della della vigilanza da parte degli organi ispettivi.